Ci spostiamo adesso all'interno del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, dove stamattina si è svolta Vivi Città a porte aperte. Una corsa podistica con protagonisti detenuti, le loro compagne e i loro figli, all'insegna dello sport per tutti e del diritto alla genitorialità. L'evento è stato organizzato dalla WISP. Sentiamo il nostro inviato. È dura, va, la lontananza uccide dentro, va, giorno dopo giorno. Però siamo qui. Piano piano ce la faremo. Quando siamo lì dentro e facciamo i colloqui non ci possiamo avvicinare, ci ritengono distanti. Perciò oggi stare più vicini per noi è bello, ci possiamo abbracciare. Almeno qua stiamo due ore vicino, giochiamo con la famiglia, stiamo vicino alla famiglia. Fai una corsa con papà? Sì. Si abbracciano nel cortile del carcere, liberi di passeggiare per qualche ora insieme, senza le sbarre della sala colloqui. Oggi a Barcellona Pozzo di Gotto i detenuti possono fare un po' di attività fisica con le famiglie. È un progetto Vivi Città, giocare per diritto di WISP Sicilia, finanziato dall'impresa sociale con i bambini. Sentiamo Santino Cannavò di WISP Messina. Riprodurre quei rapporti umani che sono stati spezzati per motivi contingenti e che comunque hanno un'influenza negativa sulla famiglia e sui figli in particolar modo. Riaprire agli affetti. E non c'è bisogno di molta teoria, ma bisogna creare esperienze e fatti concreti. Sentiamo Romina Tagliani, direttrice della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. Uno spazio che si apre per la riflessione, per la relazione e quindi trovo che sia importante perché puntiamo molto su questa leva motivazionale dei figli per il cambiamento, per un cambiamento autentico. Fabio Butera, TGR Sicilia. Grazie.